Attesa finita, il Consiglio dei Ministri si riunirà in Calabria il 18 aprile a Gioia Tauro. Dicono sia un evento, dicono che per la prima volta il Palazzo del Potere Romano si trasferirà in Calabria. Dicono che l'ambizione del governo gialloverde sia quella di colpire l'immaginario calabrese con effetti speciali. Dicono molte cose, ma resta il fatto che la riunione ci sarà e questo è un segnale importante. Bene, fin qui una buona notizia che naturalmente da sola non basta perché ci vuole altro per impressionare positivamente la gente di questa terra, abituata negli anni a vivere di promesse e di disillusioni dolorose. Il 18 aprile ne sapremo di più. Intanto, come anticipato dal Ministro Grillo, il primo atto concreto sarà l'approvazione del decreto per cambiare la sanità che, scrive l'esponente di governo su Twitter, riporterà il diritto alla salute ai calabresi. Il primo punto sarà questo. Poi, a cascata, fanno sapere ambienti vicini alla coalizione di governo, arriveranno altre iniziative per la regione più disastrata e bistrattata del Paese. Vedremo cosa verrà deciso. Nel frattempo non ci resta che aspettare la riunione e vedere quali iniziative reali verranno assunte. Insomma, dopo le promesse, le buone intenzioni e i proclami, si attendono i fatti che sono l'unica cosa che conta realmente.